Nella notte appena trascorsa è stato compiuto un atto intimidatorio ai danni del sindaco di San Giorgio Ionico, Giorgio Grimaldi. In via Torselli, degli ignoti hanno incendiato due pneumatici, posizionati l'uno davanti il portone di casa e l'altro all'ingresso del garage del primo cittadino. I vigili del fuoco sono riusciti a domare tempestivamente le fiamme che hanno provocato l'annerimento delle pareti e creato lievi danni agli infissi dell'abitazione del sindaco. Sono ora in corso le indagini dei carabinieri per far luce sulle cause del gesto ed identificare i responsabili.